questa rabbia credo che in mutato sia rimasto il dolore e la perdita dei nostri familiari e la rabbia di non sapere perché credo che sia questa la cosa che fa più male al di là del dolore della perdita della persona essere stati presi in giro per 25 anni e non sapere perché quelle persone che lavoravano o narvigavano su quel traghetto hanno aperto la vita rimane rabbia rimane rabbia ma non la segnazione rabbia perché i processi sono andati avanti come sappiamo non è mai stato trovato un colpevole anzi un unico colpevole attualmente che è stato identificato per il comandante per scarsa attenzione per velocità per supersocialità perché non ha giusto la legge per cui siamo ancora molto radiatri ho sentito ho sentito ho sentito Grazie a tutti.